Posso dichiarare con soddisfazione che abbiamo trovato un punto d'incontro nella vertenza con la sanità privata, abbiamo raggiunto una soluzione che mi auguro possa garantire da qui in avanti un metodo di lavoro strutturato nel recupero delle liste d'attesa e possa scongiurare il ripetersi di situazioni incresciose per tutti, in primis per i cittadini lucani. Annunciato così tramite una nota stampa il provvedimento della giunta regionale della Basilicata con il quale è stato stanziato il budget di spesa per le strutture private accreditate per la specialistica ambulatoriale l'assessore alla salute Francesco Fanelli. Un'avvertenza che ha dato luogo a manifestazioni da parte dei proprietari e del personale che opera per le strutture private accreditate dallo scorso mese di settembre e che ha portato a gennaio del 2023 ad un blocco per la prima volta nella storia della regione dell'erogazione delle prestazioni su ricetta a causa del mancato pagamento degli arretrati che vantano dall'ente. Fanelli ha definito il provvedimento dell'esecutivo lucano molto importante nel dettaglio l'intesa avvallando le richieste delle associazioni di categoria prevede l'applicazione del criterio della produzione dell'anno 2022 come parametro di riferimento per la definizione per gli anni 2023-2024 del budget delle strutture private contrattualizzate con il sistema sanitario regionale per le prestazioni specialistiche ambulatoriali. Due in sintesi le novità al fine di assicurare l'erogazione delle prestazioni il criterio di produzione del 2022 sarà applicato su due anni e non più solo su uno come solitamente avveniva in aggiunta si stabilisce che i budget vengano assegnati con cadenza mensile per le prestazioni erogate ai cittadini residenti in Basilicata e con cadenza semestrale per le prestazioni erogate ai cittadini residenti in altre regioni. In tal modo diamo la possibilità alle strutture private di organizzarsi e di poter lavorare nell'ottica di una programmazione economica solida, ha concluso l'assessore. Le risorse stanziate sono quelle di cui ha l'attetto di spesa regionale per l'assistenza specialistica ambulatoriale definito con decreto legge 95 del 2012 e previa approvazione del fabbisogno sanitario e del piano socio sanitario regionale saranno dunque ripartite con successivo provvedimento eventuali ulteriori risorse regionali.